Come stanno i pescaresi? Bene, grazie. Almeno secondo la classifica del Sole 24 Ore, stilata sulla base di 12 indicatori, tra i quali il tasso di mortalità, la speranza di vita, la diffusione di farmaci per le malattie croniche e l'accesso ai servizi sanitari sul territorio, la diffusione delle patologie tumorali o cardiache e il consumo di farmaci per asma, diabete e ipertensione. Dall'incrocio di questi indicatori è scaturito l'indice sulla salute del Sole 24 Ore. Nella graduatoria Pescara ottiene un ottimo secondo posto su scala nazionale, dopo Bolzano e prima di Nuoro. Il Sole 24 Ore tutti gli anni fa questa graduatoria e quindi se siamo così in alto non possiamo che essere soddisfatti. Come tutte le graduatorie bisogna sempre avere cautela e commentarla senza farsi prendere da facile entusiasmo. Questa nostra provincia ha tanti problemi di salute che stiamo cercando di risolvere. Ciò nonostante confrontate con le altre su questi indici i risultati sono più che buoni. Su questi indici e lo preciso perché introducendo altri indici verosimilmente non sarebbe così ottimista la graduatoria. Abbiamo poi due o tre indici molto interessanti in cui eccelliamo che sono il consumo dei farmaci per l'ipertensione. Ne consumiamo molto poco, questo penso però sia dovuto pure al fatto che i nostri geni credo che siano buoni. Questi risultati vanno letti anche con l'altra faccia della medaglia, con l'aspetto economico finanziario dell'ASL. Devo dire che siamo soddisfatti perché negli ultimi tre anni c'è stato un lavoro fatto per il contenimento dei costi. Il 2018 abbiamo già chiuso il bilancio in pareggio, questa è una buona notizia penso. Ovviamente dobbiamo guardare al futuro e sicuramente il bicchiere è mezzo pieno e cercheremo, sperando un finanziamento maggiore dell'ASL, di migliorare sicuramente i servizi che vanno migliorati. Non è la prima volta che il Sole 24 Ore, che lo ricordiamo è il più importante quotidiano economico italiano, non l'eco del frullo come spesso invece succede sui social, fornisce un giudizio, un apprezzamento assai lusinghiero sulla città e sulla provincia di Pescara, sulla base di una serie di parametri il cui senso è quello per cui il diritto alla salute trova piena applicazione, tanto da essere secondo il Sole 24 Ore la seconda città e dunque la seconda provincia italiana per qualità del servizio sanitario erogato. Il che se vogliamo poi fa il paio, come accennavo all'inizio, al giudizio altrettanto lusinghiero sulla offerta culturale della nostra città che ci vede davvero ai primi posti in Italia. Questo mi fa pensare ancora una volta che Pescara è un luogo in cui si sta benissimo, in cui naturalmente esistono i problemi perché solo nel paradiso non ci sono problemi. È una lezione che dobbiamo tenere bene a mente perché troppo spesso noi siamo i primi denigratori della nostra comunità. Ma l'Abruzzo non è tutto rose e fiori. Tra le brutte performance va inserito il dato relativo all'immigrazione ospedaliera, ossia quei pazienti che scelgono di curarsi fuori regione, un fenomeno che registra il picco negativo all'Aquila.